20 genitori e 20 figli si sono ritrovati ieri nel palazzo della provincia per un confronto che ha attraversato le generazioni. Nell'ambito del progetto Dimensione Teenager, dalla rappresentazione di sé alla rappresentazione del mondo, adulti e adolescenti sono stati guidati dalla dottoressa Silvia Branca e dal dottor Pierluigi Branca a riflettere sui temi dell'autonomia, delle regole, dello studio, del benessere, del tempo libero e della differenza di genere. Ritengo che momenti come questi siano assolutamente molto importanti in quanto proprio nel periodo adolescenziale ciò che viene a mancare o comunque spesso a deficitare è una sana comunicazione. Gli adolescenti piacentini che hanno partecipato a questo progetto costituiscono il 68% del campione della regione Emilia-Romagna. Questa nuova metodica che ci viene proposta quindi di un confronto a un unico tavolo tra appunto noi genitori e gli adolescenti guidati dai professionisti diciamo credo che sia un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Io spero che da questo incontro di uscire un pochino più consapevole dell'età appunto delle caratteristiche odierne diciamo degli adolescenti. La parte pratica è stata somministrare questionari ai nostri compagni di classe ai nostri conoscenti e così abbiamo potuto capire proprio quali sono le dinamiche fra i genitori e i figli. Sono emerse tendenze interessanti i genitori presenti preferiscono conoscere i figli piuttosto che scegliere per loro e sentono particolarmente la responsabilità del buon esito a scuola dei ragazzi. Questi ultimi manifestano un po' di insofferenza per i controlli di mamma e papà non apprezzando sempre l'intromissione nei loro stili di vita e di consumi soprattutto quando si usano le moderne tecnologie attraverso la geolocalizzazione.